Noi facciamo le riprese e poi le mettiamo su Youtube Si, fa vedere che ci sono tanti pesi Ma non diciamo dove andiamo Tanto vabbè, sono segreti di Pulcinella eh Ma qui ed è un peccato che ci sono questi qui di Rossano che vengono qui Quelli lì mangiano anche la merda Porta via il disco Nella cava non andate più? Basta Nella cava... Ma c'è il guaio dei testi di stimolarli subito perché adesso non le prendi qui Ma sai io no? Ma è bella qua Hai visto? L'altro giorno ero venuto in macchina Perché non avevo voglia di venire con la bicicletta Incontro uno con lo scuolo di donne insieme Ah si? Ma lei non sa che questo è parco e lei non può entrare in macchina Dico ma chi gliel'ha detto? Ma lo c'è del suo cartello Infatti dico guardi che... Guardate ragazzi che Roby Vediamo se riesci a prenderla Ne ha già attaccati due Ecco qua non so se trovi Non so Ma che bello Ma che picca di buco Ma che picca di buco C'ha del barbo Proprio per adesso anche questa lega nuova Dice ancora la specchiata gialla Oh no... Ma che bello eh Mamma mia Anche quelli là Vediamo se è un barbo o se anche aveva Ma mi sembrava di vederlo chiaro Eh ma vedi che tiene il fondo Eh si Io prima ho visto la specchiata gialla Degli altri due che ho perso No 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 Non è giallo questo Questo è di barbo Barbo? Non è barbo Non va via da fuori È da tiro? Eh si ci credo Ci sono E poi abbiamo già attaccato i pregi Abbiamo visto che stessi pesci Che tirano la pistola Bello bello È un barbo È un barbo È un barbo Ragazzi questo è uno strano eh Se lo tiriamo su Quando lo tiriamo su diventa strano Diventa stranissimo Questo parla italiano ragazzi Mario non è uno straniero questo eh Ahahahahah Le non portughese Ma si c'è ancora per Sì è diventa difficile Cioè ti faccia andare un indigilo? Eh si perché Te lo guadino io? Ahah te lo fai Però lui pia la squadra a te Ma quasi sai Sì no aspetta Fai lavorare perché Mi spiacerebbe vederlo andare cavolo qui c'è una luce balorda non vedi neanche dove va e poi il controcorrente bello cavolo che calarbo che calarbo calarbo incrocio tra la carta e il barbo di qui non riesco a portarlo di là, mi sa che c'è il 12 ma il sole proprio adesso deve rompere i perlizi, è dura Roby no di lì, ecco di lì, se vuoi tirare la galla lì allora lì riesco così cazzo se tira è beato te nooo è stanco ma sono più stanco io l'abbiamo fatta la ciappa eh, la ciappa guarda, ma che bel barbo ragazzi, bello cavolo, della rogia amici, guardate che bel barbo questo è Nostrano è la rogia eh, barbo Nostrano nella rogia amici, eccolo lì il nostro barbo, va che bello bellissimo non so se da questa posizione riusciamo a vederlo ecco lì, è lì, lo vedi che le fermo c'ho davanti i fogli le fermo va allora, dov'è? grazie 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 grazie